Si è costituito a Campobasso il Comitato Civico Cittadino e dei Servizi Cimiteriali con un preciso scopo, proporre accorgimenti utili al miglioramento del benessere dei cittadini. Il Comitato ha stilato un programma in 13 punti, tutti con la finalità di migliorare il decoro e la funzionalità dei servizi. Innanzitutto attenzione alla situazione del cimitero di Campobasso ed in seguito anche di quello della frazione di Santo Stefano. Constatato che il cimitero ha accumulato negli anni tantissimi problemi, si chiede al riguardo che l'amministrazione metta a bilancio annualmente una congrua somma idonea a risolverli. È urgente il rifacimento dell'anagrafe dei defunti. Ovviamente il Comitato sollecita interventi di lavori di risistemazione edilizia, regolazione delle esumazioni, realizzazione del crematorio comunale, la verifica delle ataviche scadenze dei defunti esistenti all'interno delle cappelle gentilizie. Di particolare attenzione il punto 9 che prevede l'intenzione del Comitato di fare una ricerca sui tanti defunti meritori di più attenzione, valorosi, artistici, studiosi, letterati, teatrali, affinché possano inizialmente avere menzione sopra una lastra di marmo da porre all'ingresso della porta principale e che successivamente possano trovare perenne riposo all'interno di un mausoleo che potrà contenere anche quelli che oggi, in mancanza di idoneo sito, hanno trovato dimora dentro il castello Monforte. Così facendo la città potrebbe avere un monumento come lo è il castello che però dovrebbe essere adibito a ben altri scopi di propaganda sociale, culturale e turistica.